Triumph Motorcycle svela due nuovi modelli della famiglia Modern Classics, la rinnovata Speed Twin 1.2 e la novità assoluta Speed Twin 1.2 RS. Disponibili presso tutti i concessionari Triumph da gennaio 2025, la nuova Speed Twin 1.2 presenta importanti aggiornamenti sulla ciclistica, tra cui forcelle e sospensioni posteriori marzocchi che migliorano naturalmente la maneggevolezza, consentendo una guida più equilibrata ed immediata. Tali caratteristiche sono abbinate a prestazioni extra, con 5 cavalli di potenza massima in più rispetto al modello precedente, per un carattere ancora più sportivo ed emozioni di guida uniche. Sono disponibili di serie anche l'ABS ottimizzato e il controllo di trazione, entrambi dotati di funzione cornering grazie alla piattaforma inerziale installata sulla moto. La nuova Speed Twin 1.2 presenta inoltre un look sportivo e contemporaneo, con alcuni dettagli tipici della famiglia Modern Classics, che evidenziano l'eccezionale qualità delle componenti in tipico stile Triumph Motorcycles. La versione RS invece offre ai motociclisti stile ed ergonomia più sportivi, grazie al manubrio riposizionato e alle pedane arretrate, oltre a specifiche di altissimo livello, quali il Triumph Shift Assist. Per la prima volta di serie su una Modern Classics, forcelle marzocchi completamente regolabili, sospensioni posteriori Hollins e pinze freno Brembo stilema. In primo equipaggiamento, la nuova Speed Twin 1.2 RS monta pneumatici Metzler Racetech RR K3. Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycle, ha dichiarato La nuova Speed Twin 1.2 RS è ancor più incentrata sull'aspetto sportivo e offre una guida più coinvolgente, con performance entusiasmanti. È stata pensata per i motociclisti che cercano il meglio da una moto in termini di dinamicità, senza rinunciare a un look classico e sportivo. Gli aggiornamenti sulla nuova Speed Twin 1.2 invece, rappresentano un'evoluzione significativa per questo modello particolarmente apprezzato, nel quale abbiamo mantenuto sia la maneggevolezza che lo stile classico, che lo contraddistinguono, unito a una potenza maggiore e nuove tecnologie che migliorano nettamente l'esperienza di guida. La nuova Speed Twin 1.2 sarà disponibile a partire da gennaio 2025 presso tutti i concessionari Triumph al prezzo di 14.995 euro, mentre la versione RS al prezzo di 17.295 euro. la versione RS al prezzo di 17.295 euro,